Siamo fortemente preoccupati per il futuro di Gera. Il numero uno della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, durante il vertice di ieri, ha dichiarato che tutto dipenda dal Governo nazionale. L'UGL è invece convinta che dipenda tutto da noi, da Crocetta, Presidente della Regione Sicilia, dall'ENI fino a noi sindacalisti, tutti i firmatari di quel protocollo del 6 novembre del 2014. Siamo responsabili allo stesso modo del futuro di centinaia di lavoratori di questa raffineria. È nostro compito lavorare insieme e sentire nostra lavertenza. Lo dice Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici di Gela, al termine del vertice di ieri presso la Regione Sicilia, a cui hanno partecipato le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. L'ENI dal canto suo, attraverso una nota stampa, ha ripetito che in riferimento allo stato di attuazione del protocollo di Gela del 6 novembre del 2014, gli impegni presi sono stati rispettati e le attività procedono in linea con quanto previsto. A noi, dice Alario, non sembra così, quindi è giunto il momento che alle parole seguono i fatti. I vertici ENI, dice il sindacalista, concretizzino nei tempi stabiliti tutti i cantieri presenti nel protocollo, sollecitino l'avvio dei lavori di riconversione della raffineria ENI, effettuino la bonifica dal territorio e soprattutto la ripresa occupazionale. L'unica prova concreta fino ad oggi del loro lavoro è stato solo l'allontanamento del personale. Nelle prossime ore seguiranno nuovi incontri presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per affrontare invece la questione degli ammortizzatori sociali e dare quindi sostegno ai lavoratori dell'indotto che già da un mese non percepiscono un centesimo. Seguiremo con attenzione questa vertenza che, ripeto, dice Alario, non riguarda solo il futuro della raffineria, ma l'economia di Gela. Intanto oggi a Gela è giunto il segretario nazionale generale della FIM CISL, Marco Bentivogli. Siamo qui oggi per dimostrare la nostra vicinanza ai lavoratori di Gela. Siamo a fianco, sono 800 metalmeccanici che sono in mezzo alla strada dopo la chiusura della raffineria e noi pensiamo che sia l'occasione perché il Governo confermi i propri impegni, la Regione conceda le autorizzazioni il prima possibile e Eni, come ha fatto, soprattutto confermi il suo piano di riconversione della raffineria. È importante che non ci siano rimpalli, è importante che questi lavoratori sia riconsegnata la speranza che meritano. Sono persone che non vogliono assistenzialismo, ma vogliono che sia ripristinata la loro condizione occupazionale.